Le foto scientifiche dell'anno dell'eclissi solare totale che in agosto è stata seguita negli Stati Uniti da milioni di persone e da scienziati di tutto il mondo. Questa è stata realizzata dal Solar Dynamics Observatory della NASA nello spettro punta violetto. È tutto, ancora auguri di buon Natale e ci vediamo domani con informazione scientifica.